I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno proceduto al sequestro di oltre 210 tonnellate di pellet ritenuto non sicuro. L'operazione ha origine da un controllo effettuato presso la stazione di servizio Fratta Nord lungo il tratto autostradale A4 in direzione Venezia. Tra i mezzi pesanti che stavano effettuando la propria sosta è stato individuato un auto articolato slovacco il cui conducente alla richiesta di esibire la documentazione di scorta del carico trasportato consegnava documenti che riportavano diverse cancellature e date non compatibili con il percorso effettuato. Per tale motivo i finanzieri hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito rinvenendo 21 tonnellate di pellet divisi in sacchi di plastica. Dai successivi accertamenti è stato constatato che l'azienda slovacca produttrice del pellet non era più autorizzata da tempo a commercializzare il prodotto in quanto non rispondente alle qualità imposte dalle normative europee. Sono tuttora in corso le analisi di laboratorio per accertare o escludere la presenza di eventuali sostanze chimiche tossiche e nocive.